Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Con solamente una puntata, Temptation Island 2023 ha già regalato una valanga di soddisfazioni per i telespettatori che lo attendevano da dopo la conclusione dell'edizione del 2021 e la pausa del 2022 Il conduttore è sempre Filippo Bisciglia e le coppie sono nuovamente Nip Shock su Gabriela e Giuseppe.Già aveva scandalizzato il racconto che lei aveva fatto riguardo la sua relazione amorosa con Giuseppe, per il quale avrebbe abbandonato la scuola da adolescente come chiuso alcune amicizie e rinunciato al divertimento e alla socialità Adesso, Gabriela ha generato di nuovo scalpore a Temptation Island 2023 Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe, spunta il video shock Ho lasciato gli amici e la scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto di nascosto a un sito di incontri Però, per sbaglio, il cretino, dà il mio numero e mi arriva un messaggio su WhatsApp ciao, stasera ci dobbiamo vedere Che poi sei scemo, si faceva chiamare American Boy e se sei appena l'italiano, aveva detto lei nel video presentazione È bastato uno dei tradizionali video proposti da Filippo Bisciglia durante gli altrettanto iconici falò per far saltare in aria Gabriela nei confronti del fidanzato che ha apostrofato con lo stesso spiacevole termine la bellezza di 18 volte e con talmente tanta rabbia da scioccare degli utenti Oltre ai tweet che sottolineano il fatto, c'è anche un TikTok che sta facendo il giro del web in cui vengono elencate tutti i bastard che Giuseppe ha incassato Ma è impazzita? Lo dicesse un'altra volta, povero, sceneggiata shock, i fan Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video